Costretti a cancellare gli appuntamenti di pulizia presso immobili di privati e strutture alberghiere perché impossibilitate a reperire forza lavoro, nonostante la garanzia di contratti a norma di legge part-time o full-time. Accade al mattino, dove un'azienda le posto ha persino scritto al prefetto di Lecce per denunciare una serie di paradossi. Non si riesce ad interagire con l'ufficio di collocamento, chiusi o con telefoni fuori posto, potenziali dipendenti che non vogliono un contratto per non aumentare il reddito complessivo familiare, proprietari di immobili che non vogliono ricevere fatture per le prestazioni. E questo, dicono, accade soprattutto nel settore turistico, dove il 92% dell'operazione viene rigorosamente in nero. Ad un incremento del lavoro siamo quasi costretti a rinunciare perché non abbiamo la mano d'opera per andare a svolgere quello che è il nostro lavoro. Non solo, lo stesso reddito di ciladinanza non permetterebbe alle aziende di assumere i lavoratori o perché molti di essi non hanno i requisiti per essere assunti nel settore, non avendo maturato contribuzione ed esperienza a sufficienza, o perché gli stessi preferiscono arrotondare, prestandosi a soddisfare un'economia sommersa, potendo contare sulla libertà di utilizzo del proprio tempo contro la gestione del tempo prevista da un organigramma aziendale. Noi vediamo un grande caos perché non c'è nessuno che interviene da parte delle istituzioni per risolvere questo problema. Non ci sono controlli, non ci sono controlli da nessuna parte. Per questo chiedono un capillare controllo del territorio dalle forze preposte affinché il fenomeno possa essere quantomeno alleggerito e scongiurare la chiusura.